3, 2, 1, il countdown, il conto alla rovescia delle amministrative di Vicenza è partito. Si accennono i motori, il decollo è fissato per il 10 giugno, ma come tutti i lanci anche questo ha il suo test, le regionali in Friuli-Venezia-Giulia. I risultati erano attesi dalle fazioni in campo nella corsa alla poltrona di sindaco di Vicenza e le urne friulane e giuliane sono state nette. Vittoria del centro-destra, netto calo del Partito Democratico, crollo dei grillini. E allora andiamo dai candidati vicentini di centro-sinistra e del Movimento 5 Stelle. Dividiamo lo schermo in due parti uguali, da una parte Otello Dallarosa, dall'altra Francesco Di Bartolo. e chiediamoli se le elezioni in Friuli-Venezia-Giulia possono essere un presagio per Vicenza. Io continuo a sostenere che sono partite diverse e lo dimostrano anche queste regionali, dove il centro-destra in regione stravince, ma per le comunali a Udine 41-36, quindi partita apertissima e tutta da giocare al secondo turno. Più si scende di livello nelle elezioni, più la gente va a guardare la proposta, le persone che fanno la proposta e la qualità delle persone della proposta. E quindi sono convinto che a Vicenza ce la giocheremo, fino all'ultimo giorno ce la giocheremo. Io sono convinto che i vicentini daranno ragione a una proposta che è fatta di concretezza, di capacità di risolvere i problemi e che apprezzeranno anche il fatto che la mia storia è la storia di una persona che ha fatto un percorso da manager, che ha una famiglia, che è da sempre vicentino, e che è abituato per mestiere a risolvere problemi e a organizzare squadre. Io ho sempre detto che le elezioni locali sono un'altra cosa e nulla hanno a che vedere con le elezioni politiche. Nelle elezioni locali conta tantissimo la figura del candidato sindaco, contano le sue proposte. Noi qui a Vicenza ci troviamo di fronte a due schieramenti storici che io chiamo consorzi perché c'è il consorzio di centrodestra e il consorzio di centrosinistra. Sono come i consorzi delle imprese che poi si spartiranno le poltrone, ma di proposte concrete nessuno ne ha fatte. Se i vicentini hanno voglia di cambiare, bene, noi del Movimento 5 Stelle ci siamo, ci siamo con il nostro programma e vogliamo dare speranza a questa città, vogliamo farla rinascere, vogliamo farla rivivere.